Il tema di oggi è stato il conoscere qualcosa di più della Notte dei Publivori perché è forse l'unica rassegna al mondo che ha sempre trattato un aspetto spettacolare della pubblicità e quindi la pubblicità come momento di spettacolo. La Notte dei Publivori è stato un antesignano del conoscere l'essenza dell'idea creativa perché è un archivio di oltre 1.500.000 spot raccolti dal 1898 ad oggi e queste rassegne fanno fare un viaggio intorno alla comunicazione, all'idea creativa e all'originalità dell'advertising a livello mondiale quindi è praticamente un corso di marketing in una notte e quindi non poteva che debuttare all'interno del festival della creatività.